Ragazzi, allora, buona serata a tutti, spero di farlo uscire in serata a sto video qua Allora, l'Atalanta ha perso 3-2 contro il Villareal in casa, quindi passa il Villareal agli ottavi di finale di Champions League Piccola premessa, se ho visto alcuni video e quant'altro, ragazzi, essere ambiziosi per la Champions League significa non mettere la Champions Se sei ovviamente la Juventus come sogno ma come obiettivo, che è diverso Perché tu sei la squadra che ha vinto più campionati nei principali 4 campionati d'Europa e tu hai l'obbligo, dovresti avere l'obbligo come tifoseria di puntare come obiettivo alla Champions League Guardate cosa hanno detto il signor Varane, cosa hanno fatto i tifosi della Madrid, che può essere sbagliato da una parte ma quella mentalità lì gli ha permesso a loro e alla società sempre di stare sul pezzo in Europa di vincere tra i sei Champions League Quando vincono la Champions League si pensa sempre alla Champions League successiva Quello che noi, o comunque voi in generale, fate qui in Italia per gli scudetti Il fatto che non si voglia più festeggiare gli scudetti non è un discorso di volere, è un discorso di sentirsi in qualcosa Cioè festeggiare, sì, sei contento se vinci lo scudetto, sei contento se vince la tua squadra Però poi, se poi non ti lascia nulla per il futuro, sono vittorie fine a se stesse Quindi, ok, è giusto essere contenti per il passaggio del turno come primi, quello che volete Però se poi non si dà un seguito, se poi il vostro obiettivo è, cioè, il vostro obiettivo, il vostro, il discorso Champions per voi è un sogno Tanto vale non andare neanche in Champions, perché per me la Champions deve essere un obiettivo Perché io sono un tifoso gobbo, ho 38 scudetti, sono la squadra che ha vinto più campionati, 4 campionati principali E dovrei avere l'obbligo di mettere la Champions come primo obiettivo Tanto uno squadetto in più, uno squadetto in meno, gli altri possono vincere anche 20 squadetti di file e non ci raggiungono Cioè, parlo ovviamente se li suddividono, insomma Ecco, questo è il discorso, siccome qua e poi qualcuno che fa qui su YouTube non siete tifosi Ah beh, perché vuoi dire sempre sì, 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 quello è essere tifosi Ah perché no, noi critichiamo, sì, criticate con il freno a mano tirato però Criticate con il freno a mano tirato E non mi riferisco a uno in particolare Il mio discorso in generale, se vedo un titolo con scritto Non siete tifosi a Juventus perché siete critici Perché non siete contenti quando vince la Juventus Non è che non si è contenti È che non si è contenti per il modo con il quale si vince Quello è il discorso, è quello che deve, su quello bisogna battere come tifosi Perché vincere così può andarti bene un anno che vinci come l'Inter Ma il nostro obiettivo non dovrebbe essere vincere Ok, la Champions è un obiettivo, cioè per me è un obiettivo e se la vinco sono contentissimo Però il nostro obiettivo è vincere e rimanere sempre lì Non trattare la Champions come un sogno e se la vinci contentissimo poi sparisci per altri 30-40 anni Perché con tutto rispetto non sei il Chelsea, non sei l'Inter Eppure il Chelsea c'è raggiunto negli ultimi 8 anni con le Champions E qui, ripeto, a livello europeo dobbiamo solo che vergognarci Punto Detto questo, andiamo e veniamo noi Allora, i sorteggi di Champions League I miei sorteggi Allora, come sapete benissimo, non si possono pescare le stesse squadre dello stesso girone Non si possono pescare le stesse squadre dello stesso paese E anche, insomma, bisogna guardare anche un po' i diritti televisivi per fare gli accoppiamenti Vabbè, comunque adesso andremo a vedere, nel caso non so se considerare anche l'ultima parte Andiamo a vedere, allora Si pesca prima la seconda, una squadra di seconda fascia Poi la si abbina subito a una di prima E vediamo cosa succede Allora, andiamo subito Ricordatevi che ci sono 4 partite e 4 partite 2 il primo martedì 2 il secondo martedì Il primo mercoledì E poi 2 il secondo martedì E 2 il secondo mercoledì La settimana successiva Quindi, andiamo a vedere Andiamo a vedere La prima Seconda In seconda fascia Vediamo chi è La prima e seconda fascia È Proprio il Paris Saint-Germain Ovviamente che non può beccare Il Lille Qua comunque abbiamo due squadre francesi Quindi quella non può beccare Il fatto è strano come sia testa di serie e PSG seconda Comunque, andiamo a vedere Andiamo a vedere subito Andiamo a vedere subito Qua è uscito Uff E non può beccare anche il City PSG Manchester United PSG Manchester United Ronaldo contro Messi Attenzione PSG PSG United Perfetto Allora Poi andiamo Andiamo oltre Andiamo oltre Andiamo subito sulla seconda fascia Cerchiamo di essere veloci Quindi questa sarebbe la prima partita Del primo martedì Poi andiamo a vedere La seconda partita Qua Allora abbiamo il Salisburgo Che è ovviamente squadra austriaca Andiamo a vedere Che c'è solo quella squadra austriaca Vediamo Testa di serie Chi beccherà Salisburgo Salisburgo Madrid Salisburgo Real Madrid Quindi Salisburgo Sal Real Ok Poi andiamo a vedere Ancora Qua Seconda fascia Seconda fascia Seconda fascia Vediamo qua In seconda fascia Qui abbiamo Qui abbiamo Vediamo L'atletico Di Madrid Squadra comunque Da evitare Come sempre Come giocano loro Noi troveremo Sempre difficoltà Per come giochiamo noi Atletico Madrid Atletico Madrid Vediamo qua Affancolo Vediamo qua Mi ha scappato il foglio Vediamo qua Atletico Madrid Atletico Madrid Eh Atletico Madrid Juventus Ecco Atletico Madrid Juventus Siamo a posto Quindi Atletico Madrid Juventus Allora Atletico Madrid Juventus Andiamo avanti Andiamo avanti Perché poi c'è anche l'Inter Ovviamente Seconda fascia Che tra l'altro In seconda fascia C'è l'Inter Ma in questa partita Non può uscire Perché infatti Esce proprio l'Inter Cioè Perché Nella stessa Giornata Nella quale sarebbe La Juventus Quindi dobbiamo pescare Un'altra seconda fascia Qua Andiamo a vedere Qua andiamo a vedere Il Becchiamo il Chelsea Becchiamo il Chelsea Becchiamo il Chelsea Andiamo a vedere In prima fascia Chi Chi troviamo Chi troviamo In prima fascia Chelsea 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 Non può beccare Il Liverpool Affanculo Chelsea 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 I Chelsea Vediamo chi beccano I Chelsea Vediamo chi beccano I Chelsea I Chelsea Beccano l'Ajax Chelsea Ajax Bella partita Questa Bella partita L'Ajax Ho visto giocare Gioca molto bene A calcio Quindi Chelsea Chelsea Ajax Bene Andiamo a vedere Le ultime 4 partite Seconda fascia Sempre seconda fascia Vediamo qua Allora Qui becchiamo Qui becchiamo Vediamo che cazzo Becchiamo Comunque la UE Più soldi Si è preso Dalle Con l'innovazione Della Atalanta Bene così Qui becchiamo L'Inter Becchiamo l'Inter Vediamo chi beccherà L'Inter Che serve quindi Questo è il secondo Martellini Teoria dove vi giocare così Inter 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 Lille Guardate che culo Ha più culo di noi Bene Inter Lille Perfetto Inter Lille Inter Lille Poi andiamo a vedere Ancora Si fa una fascia Si se va così Veramente Una roba C'è Se il buongiorno Si vede la mattina Lille inizia da sempre Scusi Poi abbiamo Il Benfica Abbiamo il Benfica Che si è qualificato I danni del Barcellona Che ha perso L'ultima 3 a 0 Contro il Bayer Monaco Qui abbiamo il Benfica Benfica Liverpool Benfica Liverpool Benfica Liverpool Benfica Liverpool Bene 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 Poi andiamo ancora Seconda fascia Mancano due partite Mancano due partite Qui abbiamo Qui abbiamo Il Vediamo Il Villareal Abbiamo il Villareal Abbiamo il Villareal Io spero che Perché sono un mezzo Non quegli unito Spero che non vengono fuori Roba strane Che se no Mi tocca rifare Un po' di partite Villareal 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 Bayer di Monaco Villareal Bayer di Monaco Villareal Bayer Monaco E poi E poi abbiamo L'ultima partita Che Vediamo che squadra è Abbiamo 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 Lo sporting Di Lisbona E abbiamo Abbiamo Lo sporting Contro Fanculo Lo sporting Contro Il Manchester City Lo sporting Contro Il Manchester City Sporting Manchester City Bene, ricapitolando ragazzi, allora le otto ottavi di finale sono PSG, Manchester United, Salzburgo, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Chelsea, Ajax, Inter, Lille, Benfica, Liverpool, Villareal, Bayern, Monaco, Sporting, Manchester City. Spero di non aver fatto neanche una stronzata, che non abbia accoppiato squadre che non potevano accoppiarsi, il Benfica era il girone del Bayern Monaco, quindi no. Bene, penso che vada bene così. Ragazzi, detto questo, fate anche voi i vostri pronostici, magari con quel sito che c'è di solito, e fate sapere che squadre avete beccato per noi in generale. Timore no, sono contento, ripeto, per il primo posto, non sto qua a godere, io godo. Allora, io sono contento per le vittorie, ma godo solo se si vince la Champions, questo è chiaro. Ma è un discorso molto semplice, tu hai fatto, sei stata l'unica squadra che ha finito il ciclo senza una Champions League. E questa è una cosa molto grave, non fatemi paragoni con PSG City, perché la Juventus ha più storia di PSG City. Queste due squadre, al di là del fatto che sono appunto governate da Sheik, quindi spendono e spandolo, però sono a quei livelli lì da meno anni di noi. Quindi questa è la cosa grave, ragazzi, questa è la cosa grave. Punto, fine. L'ambizione si vede da queste cose qua. La Champions League non deve essere un sogno, deve essere il nostro primo obiettivo. Anche quando siamo una squadra di merda come quest'anno, come si ragiona a Madrid in altre piazze. Perché non credo che il Barcellona e i tifosi del Barcellona siano contenti di essere scesi in Europa League, perché tanto non avevano una squadra per vincere quest'anno. Ok? Bene. Buonasera a tutti, sempre e comunque, fino alla fine, Forza Juventus!